Chi vorrebbe Barack Obama come prossimo presidente? Certamente diverse decine di milioni di americani, ma anche al momento circa 40.000 francesi. È cominciato come una scherza tra alcuni amici che discutevano avviliti delle presidenziali 2017, ora è un sito internet che, seppur in maniera provocatoria, ha già raccolto 40.000 firme. Scopo? Superare il milione di sostenitori per convincere l'ex capo della Casa Bianca a presentarsi a guida della Francia.